Buongiorno e ben ritornati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie. Parliamo di Periferie insieme a Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a questa che è la 178esima puntata. 178, però niente male, niente male. Walter, come sempre ci porti degli graditissimi ospiti, un ritorno qui a Focus Periferie. Chi ci ha portato oggi? Abbiamo Romano Ranaldi, che è il presidente dell'Associazione Giovane Famiglia, che tra le altre cose gestisce uno dei più, direi, importanti doposcuola che ci sono a Milano perché è un doposcuola che dura tutta la settimana. Quasi più della scuola da lunedì al sabato, al sabato pomeriggio addirittura. Addirittura. Buongiorno Romano, bentornato. Non ci facciamo mancare nulla. È importante anche sapere come fa a resistere una cosa di questo genere. Insomma, l'Associazione Giovane Famiglia, in quella di Villa Anselmo da Baggio, quindi stiamo appunto parlando del quartiere Baggio, un doposcuola storico ormai. Quanti anni è andati avanti? Beh, l'Associazione è nata nel gennaio 2009, ma l'attività è cominciata in parrocchia nel 2000. Insomma. Alla parrocchia Santa Selmo da Baggio, stiamo facendo un quarto di secolo. Quasi un quarto di secolo e non sentirli, anzi, sempre meglio, perché ormai davvero dal lunedì al sabato, tutti i giorni, per un numero di ragazzi è veramente sempre più alto. Siamo partiti in parrocchia con sette bambini e adesso ne abbiamo 170. Però? L'attività va dal lunedì al sabato. Naturalmente le mattinate sono occupate, tre mattinate, per un corso di italiano per mamme arabofone, tenuto da un'educatrice che è stata in Israele, è studiata in Giordania, eccetera. Una settimana queste donne vanno a fare questa attività in biblioteca di Baggio e in biblioteca così si socializzano, entrano a rapporto con le istituzioni. E due sabati al mese la stessa educatrice fa un corso di arabo per italiani o tutti coloro che vogliono fare il corso di arabo, magari anche educatori, e sono 14, mi pare, 12 o 14 persone che vanno e sono fidelizzati e sono contenti, eccetera. Per cui poi le altre mattine sono occupate alla gestione dell'associazione perché io sono lì dalla mattina alle 10 fino alla sera. Per cui nel pomeriggio l'attività inizia alle 3. Alle 3? Tutti i pomeriggi? Tutti i pomeriggi alle 3 e così le giornate sono divise in due. due turni, dalle 3 alle 4 e mezza e dalle 4 e mezza alle 6. 170 bambini, ragazzi, ragazze, provenienti da che tipo di scuola? Allora, sono ragazzi che vanno dai 6 ai 16-17 anni, dalla prima elementare fino alla terza, a volte anche la quarta superiore. e sono divisi in due turni perché possono venire due volte alla settimana. Questi sono per le medie e le superiori. Dopodiché abbiamo il venerdì sera dalle 5 alle 6 e un quarto si fanno i ragazzini degli elementari e il sabato mattina, dalle 10 alle 12, si fanno ancora i bambini degli elementari. Tenendo conto delle esigenze e del continuamento delle richieste, abbiamo aperto una sezione in parrocchia, che il parrocchia ci ha dato un'aula e abbiamo fatto un'aula. In quest'aula girano una dozzina di ragazzini e sono gestiti dalla cooperativa Farsi Prossimo di Caritas, la quale si occupa di fare lei dopo scuola questi bambini che gli abbiamo mandato. Dopodiché al sabato pomeriggio dalle 2 e mezza alle 4 e mezza a 5 meno un quarto c'è un corso di inglese per ragazzini delle medie perché ci siamo reggi conto che ragazzini delle medie l'inglese è un raso terra praticamente. Nonostante le canzoni, le serie tv e tutto, niente. L'inglese è una delle materie, è il dolore. Ma il problema è che adesso abbiamo parlato di arabo, di inglese, ma l'italiano perché diceva un nostro amico quando disegnavano i rappresentanti nelle USL e fa che almeno sappiano scrivere, leggere e far di conto. Ecco, ma all'italiano come stiamo? Dico questo perché l'ultimo esame che hanno fatto per magistratura allo scritto c'è stata una strage, proprio tantissimi bocciati, proprio perché i magistrati devono scrivere le sentenze e purtroppo la capacità di scrivere non era adeguata, cioè non si sa proprio scrivere. E come stiamo qui sull'italiano? Questo è un problemino. Completo discorso di prima perché al sabato a Parigi esiste anche un corso di matematica per i ragazzi delle superiori, sono 4 o 5 che hanno bisogno di essere assistiti proprio per questo motivo. Ritorniamo alla domanda. Allora, l'italiano è, e non lo so solo io, lo sanno tutti, lo sa anche il padre, anche te, e lo sanno i genitori. La scuola fa scrivere poco i ragazzi e chiaramente tutti i testi vengono richiesti con rispostine alle domande o con crocette o cose del genere. Cioè non è il riassunto col significato, è un discorso di base, ci si sta allontanando molto dalla scrittura e ho l'utilizzo tablet, computer, eccetera. Ma io dico, almeno li facessero scrivere col tablet. A questo punto va bene, scriviamo col tablet, almeno scriviamoci col tablet. Per cui hanno, poi dopo, lavori poco con la mente se fai una ricerca, anche se è una ricerca intelligente. Perché tu copi una parte già scritta. Romano, questa cosa che stai dicendo è interessante, perché quello che voi fate appunto non è solo insegnare o far fare i compiti, è anche in un certo senso comunque educare, alla fine c'è poco da fare, da lì non potete scappare. Questo qui è fondamentale, no? È il secondo tema. Il secondo tema è che noi ci occupiamo molto delle famiglie. La prerogativa è importante. Perché raccontiamo un attimino, perché magari non lo sa, in che contesto state lavorando. Perché anche questo ce l'ha dire. La cosa importante è che è molto significativa, che noi siamo molto accoglienti e abbiamo un rapporto significativo con le famiglie, alle quali noi chiediamo l'autorizzazione firmata, richiesta, per poter collaborare con la scuola per il bene dei loro ragazzi. perché molti di loro non conoscono la lingua italiana, il 70% e il 80% sono stranieri, maggioranza arabi, poi c'è filippini, sudamericani, bla bla bla, sono tantissimi, abbiamo anche quattro cinegini, per cui... Non ci facciamo mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla. La città è cosmopolita. Giochi senza frontiere si può ripartire da voi, tranquillamente. Questo rapporto con le famiglie diventa determinante. E di fatti la nostra disponibilità ci mette nella condizione anche che alcuni genitori ci chiamano il sabato e anche la domenica. Romano, ti faccio una domanda molto personale. Poi rispondi a un nome, dimmi tu. Tu Romano si vede, sei giovanissimo. Diciamo che la tua esperienza l'hai fatta. Sicuramente quando tu studiavi, quando tu erai, non c'erano queste persone, non c'era questo mondo sociale su cui tu ti stai rivolgendo, non c'era minimamente. e credo tu abbia dovuto imparare anche a rapportarti con loro. Com'è stato? E com'è questo imparare tutti i giorni? Fare un paragone con la scuola di allora, con la scuola di adesso, è come accendere o spegnere la luce. Sono due cose completamente. Due cose diverse, tu dici. Quindi è inutile fare i paragoni? No, inutile no. Però possiamo dire che la scuola prima era mirata esclusivamente all'insegnamento, alla scrittura. Io mi ricordo intere antologie, dalla prima all'ultima pagina, lette e a casa fatto riassunto. Per cui scrivere era una cosa obbligatoria, saper scrivere. E poi sulle altre materie, tenendo conto che allora le famiglie erano molto deculturizzate rispetto ad oggi, al di là di quelli che sono migranti, che hanno problemi di questo tipo. Pertanto a scuola gli insegnanti avevano un'attività assidua, quasi assillante. Cioè spiegavano qualcosa, tu alla lavagna, tu alla lavagna. Cioè dovevi imparare per forza. Era fatto così. Poi allora magari c'erano anche le bocciature che adesso non fanno più. Per cui era una cosa diversa. Io mi ricordo che al posto della media di oggi io avevo fatto l'avviamento commerciale. Mi stupisco come oggi abbia una grossissima fatica a fare queste materie che fanno la media. Quando io allora con la scuola commerciale facevo ragioneria, computisteria, pratica commerciale, lettere commerciali in francese, datilografia, stenografia, italiano, storia, geografia. Ne mettevo dentro tutte. Per cui era una scuola diversa. Il rapporto con queste famiglie che arrivano appunto da paesi lontani. Il rapporto con le famiglie lo noti che è veramente importante è significativo. Primo, perché quando tu a qualche famiglia gli dici non c'è posto, no ma io non lo voglio portare da nessuna parte se non vengo qua da Romano. Perché il bambino dice io da Romano sto bene, voglio dire. Però i locali non si può pompare e dilatarli come aumentare perché hai volontari educatori. Abbiamo alcuni professori in pensione, due professori di matematica, poi abbiamo tre insegnanti della scuola media, Primo Levi, che vengono a fare i volontari. Cioè sarebbe un fiume in piena raccontare tutto quello che avviene. Comunque le famiglie stanno al primo posto. Si arriva all'amicizia, si arriva ad avere delle situazioni. Poi devo fare una premessa. ci sono tante fragilità. Oggi trovo una fragilità nei ragazzini che è enorme. E attraverso il progetto Mixite della cooperativa Farsi prossimo di Caritas con un accordo di cooperazione ci hanno dato uno psicologo per quattro ore alla settimana. E questo è tanta roba diciamo così. Tanta roba mi sembra per cui ci stiamo occupando di almeno cinque o sei ragazzini che hanno grossi problemi. Per cui ci occupiamo anche di telefonare alle scuole superiori per chi non riesce, per chi non trova posto, perché magari la scuola li consiglia di fare qualcosa che loro non vogliono. Cioè è tutto un lavoro di relazione. Chiaramente siamo immersi in rete con il QB, con i progetti d'Oremi, con il comune. Ormai da soli non si può andare da nessuna parte. È una storia fondamentale. Devo dire che poi ti fanno anche molto bene questi ragazzini perché sei sempre più giovane cioè ti tengono al passo con i tempi. Io invece di 82 sono 28, mi rovesciamo. Ti tengono al passo con i tempi. Ci manca solo che adesso ci arriva qui facendo la trap music e siamo a posto. Ma finché ce la faccio ti dico una cosa. Beh, io amo questo lavoro, amo aiutare questi ragazzi nel vero senso della parola e nel senso globale mi riempiono, mi completano il senso della vita. Aspetta, ti faccio una domanda. Maria, rimani su di lui perché questa qui poi la regalo alla nostra amica Elena Inversetti. La nostra amica Elena Inversetti chiede sempre questo, a chi fa quello che fai tu. Ma chi te lo fa fare? Eh, te l'ho detto adesso. Intanto questa attività verso i ragazzi che io amo tanto credo che mi completa il senso della vita. Per cui dare è sempre qualcosa che ti arricchisce. Io ho dei ragazzini che finiscono la terza media e mi dicono posso venire a aiutare i piccolini e questa è la soddisfazione più grande perché vuol dire che lì stanno bene e c'è gente che non ha compiti e viene lì non ho niente da fare ma sono venuto lo stesso. Vediamo qualcosa da fare. Per cui è importante. Però bisogna avere capacità di accoglienza e non buttare via il bambino con l'acqua sporca perché a volte c'hai dei genitori che li prenderesti e finiamo qua. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Walter hai fortemente voluto appunto Romano oggi perché questo è un tema che abbiamo già affrontato altre volte ma per te è fondamentale quello appunto dei doposcuola e di come poi si può fare questo tipo di lavoro sul nostro territorio ancora più ancora meglio poi nelle zone delle periferie milanese. Ma diciamo che i doposcuola il racconto di Romano dà uno spaccato poi chiaramente il doposcuola dell'associazione giovane in famiglia è un doposcuola molto strutturato non ce ne sono tantissimi a Milano di doposcuola di questa maniera anche se c'è una realtà molto articolata di doposcuola noi possiamo dire che ce ne siano circa 200 a Milano anche se nessuno ha fatto il conteggio e da quello che racconta Romano Ranaldi è una presenza in un determinato luogo in questo caso in quello che è il fazzoletto di terreno dell'ex antico comune di Baggio e dove si creano delle relazioni allora diventa importante anche per chi governa la città capire che tipo di realtà ci sono sul territorio e anche preservarle garantire la continuità Romano nella sostanza fra un po' fa i 25 anni del doposcuola questo vuol dire che da una parte piuttosto che dall'altra ha garantito una continuità con tutta una serie di elementi positivi e ci sono tante realtà che sono per esempio in manufatti edifici comunali ecco c'è un problema proprio sulla continuità delle presenze negli edifici comunali di che svolge attività sociali culturali e quindi ha bisogno di insediarsi di poter proseguire ecco noi abbiamo una logica del bando dove uno svolge bene la propria attività ha costruito tutta una serie di relazioni un arricchimento sul territorio ecco c'è il bando che dopo sei anni vabbè mettiamo e vediamo chi è che vincerà questo bando offrirà anche un maggior numero di soldi per la locazione che generalmente per attività sociali culturali non è altissima però il problema lo trovo ancora studo con la storia della locazione comunque allora io con la cosa lì non riesco non ce la faccio spiegamela tu ma perché dimmi cosa sbaglio il mio ragionamento il mio ragionamento è il comune non riesce a fare questi servizi per fortuna c'è Romano e i suoi amici che lo fanno e in più mi chiedi pure l'affitto anche se mi chiedessi solo un euro all'anno non mi sembra giusto punto passi lo detto dove sbaglio ha voluto dirlo ha voluto dirlo c'è un problema di approccio nel senso che se noi pensiamo che le attività le debba fare il comune è chiaro che il comune si organizza e si struttura in una certa maniera non è orientato a favorire che qualcun altro faccia perché il comune nasce dopo dalla socialità è un'organizzazione che ciascuno si dà le strutture siamo passati dalla monarchia alla repubblica o quant'altro l'Europa è piena di monarchie tra virgolette quindi c'è proprio un approccio metodologico che è quello dei compartimenti stagni invece di ragionare in termini di comunità dove all'interno della comunità poi ci sono tutta una serie di ruoli che ciascuno svolge c'è chi fa il sindaco c'è chi fa il dirigente scolastico c'è chi fa il negoziante sono tutta una serie di ruoli che arricchiscono la comunità è chiaro che se noi ragioniamo nei termini di arricchimento della comunità io cerco di favorire queste cose perché se mi chiude il negozio della panetteria sotto casa è un di meno e quindi sono preoccupato per questo allora c'è proprio questa logica di fondo dove sono compartimenti separati sono compartimenti separati e quindi anche le regole che informano quello che è la normale procedura sono delle regole che non sono legate al far emergere le realtà ma sono quelle di facciamo una regola e la facciamo rispettare quindi la stessa logica delle locazioni è quella che vale sotto la galleria Vittorio Emanuele stanno facendo l'ultimo pezzo a milioni di euro milioni di euro e la stessa che lì va bene che in scala poi arriva fino a maggio che lì va bene ecco ma la stessa logica è invece su tutto il resto del territorio cittadino e che è in tutt'altra condizione c'è il centro che è turistico e l'area periferica che non è turistica per tanti motivi poi potremmo stare anche a discutere ecco quindi c'è un approccio metodologico di costruzione anche delle regole ma soprattutto di valorizzazione di quello che è sul territorio questo è il punto fondamentale quindi noi dobbiamo metterci in un altro tipo di logica e dire ci sono tante espressioni sociali bene tutte queste espressioni sociali danno un contributo alla città noi dobbiamo costruire un pacchetto di regole perché le regole ci vogliono naturalmente un pacchetto di regole che se uno fa delle buone cose e anche gli altri che le utilizzano non è che dicono la precarietà ma ci sarà l'anno prossimo non ci sarà come capita tantissime volte no ci sono sicuramente perché è una ricchezza per la comunità quindi noi dobbiamo è il tema del decalogo dalle periferie per ripartire perché si era detto col covid nulla sarà come prima non è vero infatti è peggio a parte che per i problemi che ci sono stati con il covid qualcuno che dice ma magari si tornasse prima è anche comprensibile abbiamo visto tante cose ecco ma c'è un tema veramente di capire come funziona la città e quindi anche fare delle norme che sono adeguate al consolidamento di tutte queste esperienze volevi dire a mano su non saremo più come prima non è più come prima perché io prima andavo nelle scuole del quartiere parlavo con un insegnante in me ne arrivava gli 20 parlavo dei ragazzi adesso non si può più vogliono la video chiamata l'appuntamento in video cioè ci è persa parte di socialità e poi dicevo io adesso vado incontro al di là dell'età vado incontro agli ultimi due anni e poi dopo non so cosa succede nei locali ah ok pensavo te Romano diciamo noi viviamo lunga vita infatti lo capito infatti ho capito parliamo invece dei locali locazione associazione tutta io non so ecco io non so se questi locali potrò continuare l'attività non so cosa vorranno perché ecco ma scusate questa cosa qui questa cosa qui solo io credo sia assurda solo io credo sia una cosa assurda non è che sia assurdo no 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 credo che sia assurda questa cosa lo dicono tutti il problema di fondo è che chi è immerso in queste cose qui alla fine cerca di risolvere il suo problema naturalmente il tema è quello noi abbiamo cercato di porlo a livello generale continueremo a porlo a livello generale perché qui si tratta che gli addetti ai lavori si mettano intorno a un tavolo con chi opera e si capisca qual è lo scenario generale quindi bisogna anche capire qual è la bontà della cosa perché se uno non capisce qual è la bontà della cosa è chiaro che nemmeno ci si mette e presi io penso ai funzionari quant'altro hanno mille rogne da una parte e dall'altra non conoscono nemmeno determinate situazioni perché appunto abbiamo detto che Milano non la conosce nessuno e quindi uno che cosa fa corri dietro quelle che sono le urgenze generalmente ecco qui bisogna mettersi invece nella logica di dire siamo in una comunità la struttura amministrativa comunale è al servizio della comunità in generale e quindi ci sono una serie di presenze che vale la pena che siano consolidate che possono continuare e quindi che non ci siano i contratti o cose di questo genere poi parleremo contratti oppure anche concessioni perché ci sono questo qui è un tema da focalizzare perché ci sono due realtà adesso una realtà anzi di cui adesso non sto a citare magari la chiameremo dove da una parte ha un contratto scaduto dal 2021 e ancora dentro dall'altra parte invece ha una concessione novantennale ok allora la stessa realtà lo stesso tipo di lavoro lo stesso comune di Milano che la tratta in due maniere diverse allora probabilmente bisogna trattarla come nella maniera più adeguata hai queste due cose una funziona l'altra no forse potrei pensare di rivedere alcune regole mi ero dimenticato di dire che noi abbiamo il progetto Doremi Doremi cos'è? no il progetto TVB il progetto TVB è fatto con un finanziamento della regione e viene coinvolta la fondazione la comune e l'orchestra pepita della Children in Crisis ok abbiamo aperto una scuola di strumenti a San Giovanni Bosco perché il nostro paracolo lì non aveva disponibilità e facciamo questo corso di musica strumentale per ragazzi dopodiché abbiamo fatto anche un corso per operatori educatori di DSA seguito da una psicologa la quale ha fatto sei lezioni in video e in presenza dopodiché hanno finito adesso subito chiudo hanno finito il percorso seguendo materialmente dei bambini DSA seguiti dalla psicologa e adesso si concluderà con la riunione di tutti quei genitori insomma perché le cose funzionano è palese direi a questo punto siamo in chiusura Walter hai qualche appuntamento qualcosa da raccontarci ricordarci ci sono un paio di appuntamenti siamo ad aprile qui Romano è come la messa che alla fine facciamo gli annunci è uguale alla fine facciamo gli annunci come la messa quindi prego l'8 e il 10 di aprile riprenderemo questo tema della conoscenza della toponomastica milanese in particolare lunedì 8 alle ore 18 al centro culturale di Milano ci sarà un incontro con Edo Bricchetti che è autore del libro Storie e storie degli antichi borghi milanesi e quindi ha un'occasione soprattutto direi didattica per gli insegnanti in maniera tale che possono anche conoscere determinati strumenti libri molto semplici che però possono essere fondamentali per il racconto e la descrizione e l'insegnamento di quella che è la città di Milano che appunto non è conosciuta il secondo appuntamento invece è in biblioteca Arara nel quartiere San Siro vicino al capoline della metropolitana M5 dove ci faremo aiutare da un libro e dal relativo anche coautore Roberto Gariboldi che è anche diciamo così uno dei punti fondamentali conoscitivi della Certosa di Milano in Garegnano e questo è un appuntamento di 1730 il libro che recupereremo è Milano Arte e Storie in Periferia con appunto chiese oratori e cappelle che ci sono distribuiti per una trentina di toponimi milanesi ecco quindi è una modalità per conoscere la toponomastica milanese attraverso anche le bellezze che ci sono nella città di Milano che non sono conosciute in particolare in quell'area che chiamiamo Periferia Chiarissimo Romano ultimo appello prima di finire la messa comunicazioni comunicazione donazione del 5x1000 per l'associazione perché noi viviamo di offerte e quest'anno la fondazione Vismara ridurrà tanto i finanziamenti perché dopo anni che ce li ha dati per cui dovremo trovare altri canali di sostegno come possiamo fare a trovare le coordinate per 5x1000 avete un sito cosa avete c'è un blog c'è un sito comunque basta cercare su google associazioni giovani e famiglia Milano e ritroviamo ecco sì però c'è un'altra associazione che porta lo stesso nome e non so quando è un'altra che confondere allora Baggio cercate Baggio allora sarà mia premura inviarti tutto l'offerente in modo che lo possa fare correttamente giovani e famiglia Anselmo da Baggio sono loro e quindi dategli una mano mi raccomando il codice fiscale lo so in memoria vai lo so sì 97 52 84 30 156 ok lo mettiamo poi parlo con la mia produzione in questo momento in diretta lo mettiamo poi nell'articolo che sarà correlato a questo articolo quindi metteremo il codice fiscale bello scritto così basta fare copia e incolla e ve lo prendete ti ringrazio per questa cortesia ma grazie Romano devo venire a trovarti lo dico ogni volta e poi alla fine non vengo mai e no ma perché ho un brutto rapporto con la scuola sarai punito no perché ho un brutto rapporto con la scuola vieni venito a studiare sono traumatizzato vieni venito a studiare sarai punito mi viene non c'è vengo all'intervallo vengo all'intervallo lo fate l'intervallo vengo all'intervallo tu vieni quando vuoi io voglio dire vengo anche a prenderti ah beh allora non ho più scuse non ho più scuse più sedesci no perché vedere l'ambiente eh sì immagino e vedere l'operatività è importante promesso che prima di Natale vengo no scherzo dai no promesso che dobbiamo organizzare e vengo davvero Walter grazie mille noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui con un altro speciale di Focus Periferia e con la consulta Periferia Milano grazie Walter buona giornata a tutti grazie anche a voi grazie mille a tutti continuate a seguirci sui nostri social sul nostro sito sui nostri canali noi siamo sempre qua grazie mille arrivederci a presto grazie mille grazie mille